Una vera e propria scorribanda finita con un arrestato e tre denunciati a fare da sfondo il negozio COIN di Corso del Popolo in pieno centro storico a Treviso dove ieri mattina intorno alle 9.30 quattro giovani tra i 20 e i 27 anni hanno messo a segno una serie di furti e nell'ultimo hanno addirittura aggredito il personale del negozio danneggiando la porta scorrevole d'ingresso. Nel mirino dei primi due entrati nel grande magazzino dei profumi di marca scoperti si sono dati alla fuga. Mentre gli addetti alla sicurezza visionavano l'impianto di videosorveglianza altri due giovani dello stesso gruppo hanno replicato il furto venendo subito notati per riuscire a scappare si sono lanciati verso l'uscita danneggiando la porta. Uno caduto a terra ha preso a calci e spinte due commesse che tentavano di trattenerlo. La polizia ha rintracciato i quattro già noti per altri furti nei pressi della stazione. Con loro avevano ancora i profumi rubati del valore di 500 euro ma anche coltelli e marijuana. Il 24enne italiano di origini cilene con i profumi è stato arrestato. Gli altri tre, un ventenne e un 27enne anche loro di origini cilene e un italiano di 26 anni sono stati denunciati.